Siamo qui, anche quest'anno non possiamo altro che iniziare con lui, con il cecchino. Poi quest'anno cosa prometti? Prometto dove si uniti. Vedremo se manterrà le promesse. Abbiamo... Un'ultima in senso proprio... Fusi. Fusi. Andiamo, via. Ci siamo, un po' come sempre, punto di partenza, siamo alla funivia del... Diciamo, per poi andare verso il lupo bianco, il tempo oggi è bellissimo, la temperatura un po' fredda. Ci sta ovviamente col tempo ed è marzo. Questa è la bellezza dello scenario, dove il volo, come sempre, traccheggia anche in maggio. Andano lì, andano a toccarsi i testi, io e i testiose qua. A dopo, con gli altri. Andano lì, andano a toccarsi i testi, io e 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 Grazie a tutti Grazie ragazzi Dobbiamo fare il prodotto Mega ruzzolone E' l'imponente funibile Senti come ispira Svarione Qui sotto è tremendo Tremendo finire E' l'imponente E' l'imponente Questa è l'imponente Questa è l'imponente 3.342 metri E' l'imponente qui Molta È l'imponente Perché aspetta È l'imponente E fa un po' freddo? Non Allora, vediamo, tutto bene? Rimani per mezzo quando accadono le strade è pendente, il convento è completamente ghiacciato qualcuno la batterà, ma non mi vanno tutti qua schivi questi merdosenti, tutti schivi dove vanno? Ma no il portavescovo in cima, il tempo come sempre bellissimo, come sempre oggi e qui è lo sbocco iniziale dove da lì in poi, poi là dietro c'è il muro quello classico giorno 2, cosa particolare siamo scopiti da fare un giro impegnativo lungo, eccetera il giro delle grandi guerra oggi per la prima volta siamo qui e l'impianto è ancora chiuso ma è successo sono le 8 dove sono? le 8.09 tardi, è sempre tardi perché il nostro gruppetto oggi è dimezzato e poi non c'è vabbè vediamo così il secondo giorno con un nuovo acquisto Daniele ancora Inter, guardate le sue gambe belle dritte le sue sci ancora inrubate comunque noi si è fatta l'assicurazione no non lo saprai mai finché non ce le rubano non lo saprai mai tempo bello, come sempre oggi è abbastanza presto si è messo un po' per salire e non c'è nessuno sempre questa gente ci mette anni per per mettersi sui scarponi sempre lì si metta lì faccio un colare ci sei ci sei faccio un po' per salire ma si è un po' per salire questa è riuscita non c'è alcuna Sì, i Serai, con questa curva, schiacciato, benissimo, questa doppia curva, e Macho prende già del vantaggio sui Serai, ripartiamo la gara, interrotta, che non è una gara, ma ora viviamo come una gara, ora andiamo a dare noi a Daniele, la faremo cadere, oi, attenzione, imprevisti, imprevissimi tracciati, tracciato molto, molto, molto insidioso, la velocità dei tre stocli è più o meno identica, ma no, è un pericolo veloce, attaccherò in curva, così, quanto pesa, la differenza in quei 20 kg, ne altri, si riferma, niente, niente visibilità per loro, signora, vicinissimo, signora impauritissima, curve incredibili, non puoi scegliere dove faremo, guardate, manca pochissima all'arrivo, eh, per la strada lassù, non riesco a intaccare la posizione di mettere avanti, rifinare, va a rifinare, no, si rica, mi rica, mi rica, veramente va, non posso andare più di là, paura, eh, mapaper, non 망balle, wattola, lavoro,ionalità, ruota, 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 luom, abbiamo il solito Daniele che purtroppo ha paura di arrivare a casa capo mi devi fare un cazzo invece un malleo si balla un papà un malleo si balla un papà l'importante non perdersi non si affetta, non si affetta le mie parole sono a questo cellulare se torniamo a casa qualcuno che troverà questo video sappiate che noi c'eravamo alle 13.45 sulle 5 torri in cima, in cima del passo Giao allora la seggi l'ha arrivato contro, deve essere un po' fermata ma che... andiamo ragazzi guarda che stradina è quella lì quella che vuoi, bisogna arrivare a su in cima fra poco voglio andare fuori per forza, se no c'è da remià andiamo 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 andate, io vi ripiglio andiamo ragazzi, andiamo come è stato? andate e andate 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 allontan andate Attenzione! Questa è fatta, questa è fatta! Pista! C'è la racchetta laggiù! Chi mangia la racchetta? Forse no, forse no! Forse no! Un pochino! Un pochino sì! Guardi! Guarda lì che l'Uber ha fatto il suo ragazzo! Questo ragazzo l'Uber ha fatto! Se la volenta mi sta tornando a gola! Andiamo! La cava si lancia! Questo passo è elegante! Andiamo a seguire! Un pochino! Un pochino! Un pochino! Aspetta! Siamo in cima alla gazzuoglia! Lo vedremo! Potremo! Guardate qua! Ha avuto 30 km di vista senza mai fermarsi! Mancio ha affrontato un problema di altre volte! io non li faccio vai mangio fino in fondo, ci si vede a San Cassiano grazie, uno spettacolo sciare con l'adrenalina e gli sto wow 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 ecco ne abbiamo altri due qui ne abbiamo altri due dei nostri grande spattolata con salto che è quello spericolato laggiù è uno del russo in camera nostra imponente queste montagne sono imponenti guarda il cavo dove è laggiù qui punti un bianco e loro sono ripigliabili spazzolata spazzolata incredibile ne abbiamo un altro abbiamo il famigerato Dini abbiamo anche il cava che ha avuto un rallentamento che lui fa velociro andiamo andiamo a ripiare tutti tutti va a ripiare tutti c'è il chimone ragazzi stanno arrivando tutti chissà che deve andare dal dietologo la mano ovviamente non la sento più abbiamo un'ottima seconda posizione di Matteo Mancini che arriva sfinito ci si fa ma perché? ma pigliamo a finire ci va via abbandoniamoli se lo prendano ci si fa se lo prendano ci si fa lo stesso mal di Mills non si va si avvantaggia non sei stacco? si hai detto bene hai detto bene io ho dolore di Mills Daniele? ebbene si Daniele è qui podio meritatissimo per lui come i soliti due fanno i discorsi da barra non ci si fa non ci si fa non ci si fa questa scelta è stata una scelta sbagliata sono lì fintamente tranquilli vedrete qualcuno che la tavola si potrà salvare così moriamo tutti tutti vedremo vedremo ragazzi vi sei aspettato eh faremo un'altra pista per allungarti nel circuito è spirito di gruppo questo eh qui ne manca qualcuno ancora mi manca qualcuno ragazzi ti devi tranquillizzare tranquillizzare io farei questa bellina allo skin che sci ragazzi è un gas incredibile incredibile ancora di più io lo finivo sono in riserva ora ragazzi non so più parlare appena rimane due ragazze andiamo andiamo ragazzi è tardi andiamo andiamo vai marcia parti ore 15 e 38 siamo sul bue c'è una calma apparente buona incredibile buona incredibile buona incredibile buona incredibile ultimo video perché ormai non sa più di nulla ci si è fatta comunque sono le 15 e 47 la scende giù a Rabba e bisogna finire su qui con i cuzzoli giù una volta si arriva là giù si è vinto ma sembra ormai scontato il farcino quindi addio fermo ci stai accettando su questo meno sono ormai scontato la sua potenza è che incredibile incredibile è per i safari nociudine incredibile ci feschi i pesci chi vuolete bravo? è gosso sembra gosso tra sera ma naturalmente c'ho un pesce ha puntato un sole in faccia sono i piatti ci feschi gli squadroni c'è già gara c'è già gara c'è già gara una rotana guarda come va quello là una quarta posizione rinnegatissimo non riesce a superare non riesce a superare guarda come vola come vola come vola many compliments che hai fatto? boia è bello bellino volavi è bello bello mi sono un po' abbassato alla fine perché pensavo sono avventi buoni stavolta c'ho un video buoni dove qui te morivi e oggi invece hai vinto quindi andiamo dal vincitore e the winner is il salto finale ho visto uno spazzaneve in aria ho visto una cosa stranissima è avvenuta una torsione una cosa incredibile laggiù hai visto in aria è successo c'era un avvitamento un carmich incredibile la più bella caduta dell'anno hai fatto un numero incredibile hai fatto un avvitamento no ma perché mi si è sganciato lo schifo mentre stavo frenando comunque questa di cesta regala sempre ottime cadute se lo rifigliavi no 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 ma io cazzo lo tranquillo era arrivato beccata manca il più manca cosa è successo 30 secondi prima ho sentito un attacco dentro come si è morto morto i capito guardate ui guardate guardate ui 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 E' un buon racing questo! Gira, 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 gira E' rischiavo a un certo punto, eh? E' insalzato sulla punetta così Non l'avessi Ho promesso di pigliarla bella Siamo vicinissimi Guarda, che la spiattella Mano in terra per lui Ha scelto un terreno molto difficile Nuovo Sbilanciamento E' difficilissimo, sono tanti E' interessante Si è guardato fuorbole così E' un po' più grande E' un po' più grande Mentre in cui è inين Pagliafezzi Ora E' un po' più grande E' un po' più grande Ma potrà fare il drone E' un po' più grande E' un po' più grande Pagliafezzi Discesa 2015, solo con la discesa saremo in 14. I tried to be perfect, but nothing was worth it, I don't believe it makes me real. I thought it'd be easy, but no one believes me, I'm not all the things I said. If you believe it's in my soul, I'd say all the words that I know, just to see if it would show. That I'm trying to let you know, that I'm better off on my own. This place is so empty, my thoughts are so tempting, I don't know how it got so bad. Sometimes it's so crazy, that nothing can save me, but it's the only thing that I have. If you believe it's in my soul, I'd say all the words that I know, just to see if it would show. That I'm trying to let you know, that I'm better off on my own. I tried to be perfect, it just wasn't worth it. Nothing could ever be so long. It's hard to believe me, it never gets easy, I guess I knew that all along. If you believe it's in my soul, I'd say all the words that I know, just to see if it would show. That I'm trying to let you know, that I'm better off on my own. I'm not trying to let you know, I'm better off on my own. Grazie a tutti